È stato grazie a un residente sceso in strada la scorsa notte intorno alle 23 dopo aver udito dei fortissimi rumori se il colpo alla gioielleria Bertocchi di via Calzolai è sfumato. L'uomo, dopo essere sceso per controllare, si è ritrovato davanti due ladri che subito si sono dati alla fuga. Stando a una prima ricostruzione i malviventi sono riusciti a introdursi all'interno dello stabile dove si trova la gioielleria passando dalla galleria. Attraverso un portone hanno quindi raggiunto il secondo piano dove al momento non risiede nessuno. A questo punto avrebbero iniziato a picconare la parete confinante con la gioielleria aprendo un buco con l'intenzione di calarsi all'interno del locale. Desiderio rimasto incompiuto dato che il residente li ha messi in fuga. Dalla sua descrizione i ladri erano vestiti di scuro e col volto coperto. Nel giro di pochissimo tempo sul posto sono arrivate le volanti della polizia assieme ad alcune pattuglie di metronotte piacenza. Le forze dell'ordine hanno quindi potuto constatare che i ladri prima di penetrare all'interno dell'edificio hanno reciso i fili telefonici mettendo fuori uso telecamere e allarme. La polizia scientifica anch'essa giunta sul posto pare abbia trovato una mazza che i ladri avrebbero abbandonato nel darsi alla fuga. La gioielleria Bertocchi era già finita nel mirino dei malviventi nell'aprile del 2016 quando quattro banditi armati di pistola e asce rubarono preziosi per un valore di circa 100.000 euro.